Sono Walter Morland. Possiedo un'attività di recupero marittimo. Ho un'offerta di lavoro. Vorrei che mi aiutasse a entrare nel cavo del luogo più sicuro di tutto il mondo. Perché diavolo pensi che lo farei? Perché io non cerco solo una soluzione a un problema. Io non so quale sia il problema. Ti stavamo aspettando. Ciao. La Banca di Spagna è uno degli edifici più impenetrabili del pianeta. Lungo la strada c'è il quartier generale dell'esercito spagnolo. Se ciò non bastasse, Gustavo Medina, capo della sicurezza. E come entrerete? Quando la Spagna giocherà la partita di Coppa del Mondo, ogni singola telecamera sarà puntata lontana dall'edificio, verso la folla. Quindi tutto dipende da questa partita? Sì. Ieri eri uno studente. Oggi stai facendo brainstorming per un perfetto sconosciuto. e domani sarai un criminale. Sicuro di essere pronto per questo? E tu? Non possiamo proteggerti. Perché sei salito a bordo? Lealtà. Verso chi? Che c'è nelle casse del relitto? Non lo so. Sono circondati. Presto! Che stanno facendo? Non ne ho idea. Interrompiamo. No. Codice uno. Codice uno. È ora. Sì. Inizia la finale. Finalmente inizia la partita della vostra vita. Un attimo. Se questo è ciò che sembra, non vale 20 milioni. Vale di più. Molto di più. Non vale 20 milioni.